Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Un lieto evento nel panorama dei personaggi famosi italiani, due celebrità di grande rilievo sono diventate finalmente nonni. La coppia ben nota per il famoso programma televisivo Il Castello delle Cerimonie ha dato il lieto annuncio dell'arrivo del piccolo Matteo, il primo nipote di donna immapolese e Matteo Giordano. L'entusiasmo per questa dolce novità è stato condiviso con grande gioia sui social, dove hanno mostrato foto di loro stessi radianti e felici, con una coccarda azzurra, simbolo della gioia per la nascita di un maschietto. Donna immapolese ha immortalato una foto di lei nell'ambito delle celebrazioni del battesimo. Per questo lieto evento, la coppia ha preparato bomboniere speciali da regalare agli ospiti, testimoniando così l'entusiasmo per l'arrivo del nuovo membro nella famiglia. La nascita di Matteo rappresenta un momento di grande gioia e felicità per l'intera famiglia, che in passato ha già celebrato un lussuoso matrimonio in grande stile, come è tipico del loro programma televisivo. E tu, cosa ne pensi? Ricorda di iscriverti al canale attivando la campanellina, lascia un bel like, condividi il video e commenta. Grazie per la visione e alla prossima! Ehi, non mancare! Grazie per la visione e alla prossima!